ciao ragazzuoli bentornati questo è un episodio delle serie baguette tra l'altro sono andato a raccogliere le bietole qui al campo 3d che ho seminato la scorsa puntata e ho prodotto un bel po di litri non mi rispettavo così tanto ma diciamo che effettivamente le bietole sono molto produttive però il loro valore di vendita è veramente pessimo ma comunque gli scopi sono altri quindi direi che sono anche bello contento ho installato anche questo sillios qua diciamo stile vecchio ecco da 5 milioni di litri ma questo è anche tipo 30 mila euro quindi veramente una roba minuscola come spese ma veramente ottimo ho installato tutte le culture e infatti appunto le ho messe anche la e adesso devo aspettare un modo di fare qualche piccola altra cosa poi di che finalmente potrà sfruttarle per varie cose la banca che devo fare subitissimo è sbarazzarmi della lattuga di bancarie di lattuga perché sono veramente tante non è neanche più costo e cioè si potrei anche fare una terza fila però detto sinceramente non me ne faccio niente perché alla fine non hanno uno scopo sono solamente diciamo delle robe dell'appellimenti alla fine perché ad esempio pomodori e lattuga non fai nulla mentre con le fragole si fai le torte ecco quindi in questo caso qua io vado a venderle e faccio qualche soldo è morta la vista che tanto alla fine appunto sono solo per produrre soldi e basta non hanno uno scopo effettivo non è che ad esempio c'è che ne so il gli hamburger ecco dato che non ho detto il pomodoro lattuga ma dell'hamburger quindi non ha molto senso tenerli qui per niente quindi appunto solo a carica tutto quanto e vado a vendere adesso c'è una bella offerta da un attimo visto prima dove cacchio è la roba che c'è ma da quante scelte che posso avere 3441 in discesa quindi vediamo un attimo qual è il verore ma si ho fatto un attimo perché appunto sapevo che c'era questa offerta qua a febbraio ma si la proviamo se avessero andato un attimino troppo avanti invece a quanto pare sono giusto quindi direi perfetto contrassegna luogo che è il negozio agricolo del giardin de fermier che mi pare sia sopra eccolo qua vedete adesso andare qui sopra poi per tutto sto giro qua e ok andiamo un attimo allora visto che ci sono facendo una piccola sorta qua per vedere un attimino insieme a voi quanto prodotto di lana per portare no tessuto scusate la lana l'altra volta per poter appunto sfruttarla dato che alla fine è un qualcosa che anche lì c'è lo scopo ma poi alla fine è finito non è che c'è un altro passaggio quindi appunto ho nato la ho preso appunto quello che avevo ne ho ancora a casa quindi non so problema posso produrne quanto ne voglio di tessuto insomma vado a fare un saltino a vedere come sono messi se ne sarebbe ancora se basta se insomma è pieno insomma devo dare un'occhiata un po' in generale a gestire un po' tutto entri e c'era anche la farina se non ricordo male ora il pane insomma devo fare un piccolo tour visto che ho lo style quindi direi che ci può anche stare anche se però visto che l'altra volta era leggermente poverino sotto sforzo quindi non lo so se ce la faccio a caso a me farò due viaggi giusto per non sforzarlo troppo intanto appunto vi farò stracca dopo di che ci vediamo un attimino per vedere quanto guadagno e tante altre cose carichiamo il primo bancale se si può caricare male due al colpo non serve male come cosa anche quattro mi va benissimo non su un problema guarda giusto facciamo due mi andrebbe anche bene sì se si sganciassero gentilmente oh no sì sono un genio perché non c'è neanche la zavorra un attimo che stacco il tutto qua e vado a posizionare e a prendere a prelevare ecco una zavorra da mettere dietro in modo poter avere un po' di equilibrio altrimenti mi trovo schiantato ogni volta per terra bene allora io qui intanto sono praticamente arrivato e speravo che il valter potesse diciamo dare una piccola mano ma a quanto pare neanche lui è capace a portare su un carico di bancali e sinceramente non posso aiutare perché sono 31 mila litri e ecco tutta questa roba qua quindi sì e non ti posso diciamo dire niente perché già che tu sei arrivato qua sano e salvo compro il remote che è leggermente direi un bellettino sotto stress ed infatti le gomme sono abbastanza piatti ma forse notte ci metto sotto il magnum vediamo se poi arriva sì il nostro carico di carico perché veramente l'impresa titanica ma ce l'ho fatta questi qua sono tutti quanti bancali che a casa quindi direi che si viene fuori un bel risultato ottimo comunque dai ma alla fine non è proprio tanto male perché ho messo due serre quindi ho una bella produzione ovviamente vieni sempre aspettare che il periodo è giusto e in questo caso qua da te mancherebbero un po di bancali 99 mila più andiamo dai veloce scaricata che male forse faccio quello cambi niente poi importa ok portare ho venduto altri 6 mila così poco e un attimo cosa mi dice quale finanze 106 mila euro di prodotti bene ottimo anche tra un po arrivo anche al mezzo milione comunque una cosa che vedo che bisogna vendere la roba a febbraio sinceramente per un po una cosa strana solitamente in questo video si vende magari il radicchio si raccoglie si vende non so cosa se ne faccio loro a febbraio di salata perché magari la mettono diciamo un congelatore c'è la frigo e resta lì però solitamente è un usato sempre prodotto fresco portato e venduto subito poi ci sono le robe che rompono le vali va beh meglio così meglio per me così me la faccio soldi velocemente adesso torno a casa aspetto che arrivi la stagione quella buona preparato di quanti campi semino e poi abbiamo anche altro il cumulare di vello a me da già qualche idea riguarda un paio di aspetti quello sistemare dell'azienda perché ci sono alcune cose che non mi vanno molto a genio e vorrei un attimino sistemare quando poter avere qualcosa di buono da poter poi sfruttare per tante altre cose mentre dobbiamo appunto di fare molti altri piccoli lavoretti bene allora io qui intanto finalmente posso seminare tutti quanti i campi di quello di cui ho bisogno e fare una bella scorta perché ho qualcosa da parte però diciamo che è in piccola quantità e da quello che mi ricordo questa nuova diciamo tre volete attività richiede un bel po di roba perché questi animali qua mangiano come maiali sì ma avete capito di cosa sto parlando quindi sì appunto aprirò una stalla di maiali ma intanto abbiamo bisogno di fare queste cose per vedere un attimino un po di come fare scorte di certe culture utilizzare certi attrezzi e soprattutto come bestemmiare per bene infatti lo spasticane è qui sotto forma di divinità perché c'è un problema dalla pace 1.4 e 1.4.1 è sorto una cosa abbastanza bestemmiosa non è vero spasticane si stanno donando dalle bestemmi si bene perfetto cosa succede praticamente vado ad acquistare un qualsiasi cose che riguardi magari ad esempio i pallet e forse anche le balle non vorrei dire una bestemmia una cazzata ma comunque mi pare se anche quello io vorrei sempre comprare quattro sacchi di semi perché devo fare una grossa semina ok faccio comprare viene fuori ci sono troppi pallet di prima venderne alcuni bene il problema è che dovrebbe essere una cosa legata al negozio problema che non ho niente lì non ho un cavolo il problema è che ho troppi bancali nella mia carriera quindi non posso fare assolutamente nulla devo venderli e poi posso comprare questa roba qua non so nemmeno quali sia il limite massimo quindi posso tranquillamente anche non saperlo e ma riprodurre troppi e io cosa faccio adesso fortunatamente ho sistemato il programma trovando in giro una piccola alternativa come se ne le patate netto messi da facciamo il pieno così possono a posto se col cavolo devo stare qui a prendere andare nella sezione costruzione e posizionare un lette questi quali sono delle varie tipologie tempo che abbiamo le se i semi fertilizzante e la calce oggettivo per animali questi invece riguarda la parte di guida quindi fertilizzante e l'erbicida bene devo star qui a prendere questo posizionarlo qui perfetto più o meno da sta parte qua ok adesso posso finalmente salire sopra si spasticà è sparito il cane ma 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 era qui fino a un secondo fa stavolta se ne andessimo di me in cabina magia comunque sarebbe bello così solo ad esempio che cane può salire di fianco a voi sarebbe una cattiva idea è proprio hanno delle idee un po contorte per quanto riguarda certi aspetti ando qua riempio la seminatrice adesso vado a fare una piccola cosa perché mi sono accorto che purtroppo quando io vado ad aprire una nuova attività o già adesso come di fare ad esempio il tessuto non riuscivo a stare dentro con le spese per quanto riguarda mantenimento delle varie fabbriche che ho comprato io ho detto piuttosto che sta lì magari sempre sta a fare contratti eccetera eccetera di fare un attimino un piccolo miglioramento alla produzione dell'energia solare promettere questo canale qua però sinceramente oddio potrei anche farlo sì ma re ne metto un altro qui insieme agli altri e volevo mettere questo qua sopra il tetto però il problema è che purtroppo potete ben notare avete soldi che vanno via con niente non è che ad esempio posso includere nella casa per non so l'arma da lui resta praticamente così sarebbe una cosa carina perché alla fine in realtà appunto si utilizza il tetto per sfruttare la zona diciamo delle tegule quindi la parte che non utilizzate per niente per produrre energia però purtroppo non c'è un sistema che permette di mettere i palloni solari direttamente a contatto con la struttura ma resta così è la cosa per me brutta da vedere potrei farlo ma sinceramente no cioè dai no non è possibile è bruttissima sta cosa qua per terra no perché mi pare un po troppo grande e volevo optare un attimino più piccolo ma anche magari pochettino avessi questo di più ma produccio un po di meno ma comunque direi che potrebbe fare la differenza e lo metto qua adesso praticamente lui produce energia tramite la l'aria e quindi avete teoricamente forse e dico forse aiutarmi a avere un attimino un costo minore per quanto riguarda mantenimento delle fabbriche che poi comunque potete disattivare quindi se non volete pagare tanto fate così siete a posto dove posso finalmente andare a segnare le patate era ora e comunque non si comprano con i sacchi ma si comprerebbero dentro dei sacconi di juta che sono quelli la baroncini che vedete in giro e teoria hanno una polverina credo poi non sono sicuro che aiuta a far sì che la pianta e sulla della patata possa diciamo avere più nutrimento e quindi nascere meglio quindi con più diciamo energie diciamo così ecco un po come mai se avete fatto caso i chicchi trattati hanno quel colorito rosso appunto quello sarebbe il concimico ne ha messo all'interno cioè non all'interno penso attorno una sorta di gusto protettivo e quando appunto nasce la piantina lui si nutre di quella poi cresce sempre di più e praticamente questa è la stessa cosa e andrebbe preso diciamo tramite di sacchi e non dei semi dei semi come avete visto come per le altre culture ecco da qua adesso appunto parto fino a tutto quanto perché ci vediamo direttamente per fare altre cose ma notare intanto qua vedete che bella bestiola vedete un sacco questa texture qua delle delle gombine qua delle non so come chiamarle insomma delle file di patate ecco bellissimo ha andato messo anche le gomme larghe e le gomme larghe al valtre così almeno un attimino più cattive che infatti è molto più bello così vedete bella bestiola la valore con il resto così avrei almeno un attimino e mezzo un pochettino più carine perché le gomme fine farò mente schifo cioè sono brutte da vedere ma se stavano bisogna utilizzarle bene allora qui intanto ho terminato l'assegna delle patate ho usato l'operaio per fare un po prima dato che alla fine il campo era piccolo però comunque mi ha messo a fare qualcos'altro e noto che purtroppo non mi fa scaricare le patate in eccesso perché giustamente sono una cultura che non è che sono come i semi il problema che mi fa acquistare come sementi ma in verità non lo sono quindi c'è è un paradosso questo o che magari è un bug dell'aggiornamento ma vediamo subitissimo se è così ok attacchiamoci qua la sementi questa qui vediamo se effettivamente vedete qui in questo caso come fa fare scarica vediamo subito se è vero o meno se c'è qualche altra rogna vediamo subito no vedete tutto quanto a posto nessun problema quindi praticamente io dovrò perdere soldi dovrò averli spesi per prendere le patate quindi non sono molto figlio di questa cosa qua ma va bene li recupererò in qualche modo non è un grosso problema anche però mi dà fastidio sta cosa qua prima i sacchi che non si possono acquistare adesso non posso scaricare le patate perché alla fine nella cultura singola non è che sei un qualcosa che puoi selezionare te hanno anche ragione però che palle ho veramente allora ragazzi c'è un piccolissimo problemino che si aggiunge alla questione dei sacchi e questa volta direi che è una cosa abbastanza grave si si aggiunge alle cose abbastanza gravi e allora stavo seminando il campo però mi sono accorto che ero praticamente senza semi sono venuto qua per ricaricare la seminatrice ma niente ho scaricato tutti quanti i sacchi che avevo niente praticamente io vado qua premo R per ricaricare e non mi carica nulla mi sca le soldi ma non mi riempie nulla anzi la sorpresa è che se io faccio I per scaricare viene fuori il sacco di concime cosa che non ho richiesto visto che vabbè poteva esserci ok miso che ero messo in questa posizione qua però non ho capito il perché di questa roba ho provato a ripristinare la seminatrice nulla ricomprarla nulla quindi l'unica opzione che mi resta è quella di prendere un'altra però c'è una cosa che mi diciamo mi terrorizza un po' se io svuoto la seminatrice si riempirà ancora o dovrò ripristinarlo o non so cosa perché non ho idea di cosa cavolo fare perché solitamente è stato veramente un disastro non ho fatto altro che peggiorare cose che non dovevano essere toccate minimamente ma spero che si stiamino questa cosa qua quindi adesso vado a fare questo testo dopo di che ci vediamo lì direttamente a vedere un attimino se effettivamente è un problema grave o è risolvibile bene ed eccomi qua di ritorno con il nuovo acquisto c'è questa Gwenderland che è da 9 metri quindi una bella bestiola l'unica cosa che è un pochettino meno per la scatola è il fatto che sia così nel senso che dovete per forza ripiegarla in questo modo piuttosto che magari averla fatta su e tenerla al posteriormente proprio per forza avere questo carellino che ovviamente poi grava anche sul preso finale dell'attrezzo stesso quindi tocca stare qui ad avere una bella zavorra attività impenante con niente soprattutto poi essendo comune che cominciano a stare a fare anche le varie manovre per evitare di incastrarsi andiamo un attimino se effettivamente funziona ok attualmente sì prima uno e poi anche il resto teoricamente no questa cosa qua era il sacco che avevo messo di fianco vorrei teoricamente ah quindi eh sì non so cosa vuoi riempire visto che alla fine non è che per caso posso no non penso sia possibile nel senso che riempire la simulatrice con il raccolto che ha all'interno del silos anche se è una cosa un po' infattibile perché come detto anche prima tutto che viene seminato è trattato in modo da avere una specie di colcime attorno per far sì che poi la pianta possa tranquillamente crescere intanto voglio fare una roba molto importante cioè metto già la simulatrice in posizione di lavoro adesso bisogna stare qui a sganciare andare in retromarcia agganciare dalla parte corretta quindi bisogna fare vedete così poi un'altra manovra così agganciare sul terzo punto e il solitore posteriore ecco qua pre-break di spiegarla e il preso poi poverito grava sul trattore infatti ho messo questa nuova giusto per non avere problemi di stabilità dovrei tecnicamente poter mettere le sementi qua cioè le fertilizzate più che altro e vedete non funziona l'ho provato prima ma ho visto che andava adesso non va più quindi non ho capito il perché forse ma c'è qualche problema per quanto riguarda il trigger non ho un'idea boh andava tutto fin per me e se non va praticamente nulla anzi l'ho fatto prima era caricato iniziando a caricarsi perché adesso non lo fa più cosa cavolo succede adesso si vedete boh sono tutto un po' a caso è stato fatto che comunque non posso purtroppo utilizzare i sacchi e la mia preoccupazione è quella che un'oltre ho sbattato un po' la simmetrice io non posso più caricare niente dove dovevi fare disegnare il campo dopodiché è dato il punto di fare questo esperimento qua e se no non so cosa fare sinceramente adesso il problema è muoversi perché qua è talmente grande che non riesco neanche a fare manovra fate conto voi devo stare qui a prendere ripiegarla insomma è comodo perché è larga ma veramente è un disastro utilizzarla a zero devo fare così adesso x di nuovo voilà beh non dico niente per questo sistema qua molto intelligente però veramente è ingombrantissima ecco purtroppo non avendo tanti cavalli a disposizione non posso fare altro bene allora campo finito grazie a questo meraviglioso acquisto che ripeto non è male come la grazia di lavoro ho il cane che lo prendo sotto dai il particane però nel manovra è veramente una bestemmia perché è come vero un rimorco alla fine adesso ho un trattore che sembra un camion quindi fa manovre e devo smadonnare un po' ma comunque si per il resto dai non c'è male ah e piccolo aggiornamento è uscito nel mode 19 di aprile lo scopo solamente adesso è perché l'ho chiesto in giro o forse mi avevo visto qualcosa e mi avrei dimenticato c'è una mode che permette di sistemare il problema delle limitazioni sui bancali quindi mi toglie il limite di 100 e ve lo fa tornare come prima si chiama pallettenfix è in tedesco quindi non so se ho detto giusto ma in descrizione trovate il link che potrete scaricare quindi così evitate di rompervi le balle con questa cosa qua veramente ripeto assurda e inutile e tornate come prima quindi bene direi che una cosa buona i modeller sempre la fanno quindi diciamo che almeno grazie a loro il gioco è salvo quindi io comunque ho già fatto alcune storie su instagram sulla mia pagina vuol dire anche sul profilo del fan club per avviare di questa cosa qua questo video uscirà sabato prossimo che è il un attimo che vedo il 30 quindi saprete per quel giorno lì che c'è questo moduca ma comunque lo saprete già in anticipo e basta per il resto ultima cosa che voglio fare è acquistare un campo perché voglio un attimino investire i soldi che ho per ingredire anche il terreni vorrei prendere il 42 perché è quello che diciamo mi serve guarda caro c'è la colza sopra ed è quello che ho bisogno appunto per la nuova diciamo apertura e adesso mi è stato che aspettare che cresca poi finalmente posso trebbiare e quindi devo dire che ho risparmato soldi mi spalmerò soldi proprio per spenderli nel sistemare il cavo perché sarà preso con le bombe sicuramente vieni un attimino se è corretto avrò bisogno sicuramente di calce no strano sassi sì sicuramente avrà sassi vediamo un attimo c'era cosa qua di sassi che fine ha fatto ah no giusto li ho tolti oh bene vabbè insomma vedo che siamo come sempre nel prossimo video in cui andremo a fare raccolte e tante altre cose rispetto come sempre in live alle ore 15 per parlare con voi di varie cose quindi mi raccomando non mancate però adesso in questo periodo sono un attimino diciamo poco attivo o poco allegro ma sono momenti in cui diciamo ci sono alti e bassi quindi chiedo scusa per questa cosa qua ma comunque io come sempre vi apprezzo per quello che fate per me per tutti i video che seguite che commentate anche se non molto spesso e ci vediamo al prossimo video mi raccomando fatti bravi buon fine settimana e ciao ciao